La Ciesar è nell'evoluzione delle cose e c'è una spinta che viene dal basso, dalla società prima ancora che dalle leggi. Io mi occupo di leggi, guardo l'attuazione di nuove norme che fotografano una realtà in cambiamento. Quindi il processo sarà quello di migliorare l'evoluzione che sta già andando avanti a un suo corso attraverso delle regole giuste e un'attuazione corretta da parte di tutti gli interlocutori, le imprese, la società civile, le ONG. Questa è l'evoluzione che stiamo osservando.